A tutti voi buon lunedì 27 di luglio, buon inizio di settimana e subito con la cronaca. Signora anziana truffata a Cesanella di Senigallia da due donne che con una scusa sono riuscite ad entrare nell'abitazione della vittima per poi uscirne con due collane in oro e circa 200 euro. Ancora disperata per il valore affettivo dei gioielli ha spiegato alla polizia di non aver capito bene cosa volesse quella ragazza, aveva qualcosa da vendere e dei prodotti ai quali l'anziana non era interessata. Una volta infilatasi però nell'abitazione la truffatrice mentre distraeva la proprietaria ha agevolato l'ingresso della complice che ha frugato nei cassetti. Solo una volta fuori l'anziana si è accorta di essere stata derubata, a quel punto ha chiamato le forze dell'ordine per sporgere denuncia. Incendio di balle di fieno sabato notte a Montignano. Il rogo è divampato intorno alle 2 in strada della torre, sul posto. Si sono portati i vigili del fuoco di Senigallia. Stando ai primi, accertamente, l'incendio potrebbe essere stato appiccato da qualcuno. Il rogo ha bruciato un centinaio di balle di fieno. Nei giorni scorsi era successo anche ad Ostra. Sono in corso le indagini. Il Consiglio Comunale di Senigallia tornerà a riunirsi mercoledì 29 di luglio e ci anticipa l'ordine del giorno Dario Romano, Presidente del Consiglio Comunale. Alcune emozioni presentate dal Movimento 5 Stelle e dal Movimento di Città Futura, per poi arrivare anche all'approvazione del nuovo statuto dell'ASA. Chiaramente in tutto questo stanno proseguendo le riunioni della Commissione Bilancio e questo vuol dire che se oggi la Commissione licenzierà tutte le pratiche previste per questa dura manovra di bilancio, domani saranno aggiunti all'ordine del giorno questi argomenti. Quindi vuol dire che mercoledì ci sarà anche il tema del bilancio preventivo 2015. Fa strano parlare di bilancio preventivo a fine luglio, ma purtroppo, come abbiamo visto in questi anni, l'emergenza in cui versano gli antilocali purtroppo ci costingono a fare questo tipo di manovre in piena estate. Cambiamo pagina. Sarà presentato mercoledì 29 alle 17.30 alla Rocca Roveresca il catalogo della mostra Mirella Saluzzo Scultore, attualmente allestita nei locali della Rocca stessa. Il catalogo è stato curato dal critico d'arte Giorgio Bonomi ed è stato pubblicato da Gabbiano, editore. Dal 16 luglio Vodafone Italia ha attivato un'antenna mobile temporanea a Cisanella di Senigallia che permetterà di potenziare la linea telefonica durante la stagione estiva ed evitare così il sovraccarico dovuto al grande afflusso di turisti. L'antenna, che verrà rimossa il prossimo 16 ottobre, ha ricevuto le necessarie autorizzazioni sia dall'ASUR, Area Vasta 2, per ciò che concerne il parere igienico-sanitario, che dall'ARPAM, per quanto riguarda il parere tecnico sulla protezione dall'inquinamento elettromagnetico. Nuova offerta turistica a Senigallia. Vediamo. Mercoledì prossimo entra in funzione un trenino itinerante per Senigallia, adibito esclusivamente a turisti che vogliono visitare le bellezze della città. Nuova offerta turistica per la città di Senigallia. Ci dotiamo di un trenino che viene messo a disposizione delle tante presenze che speriamo di avere da qui alla fine della stagione turistica. Un trenino che girerà soprattutto dentro il centro storico e metterà nelle condizioni tante famiglie di avere una conoscenza più consapevole delle bellezze della nostra città e contemporaneamente con una guida bilingue di conoscerne i dettagli. Partiamo con un progetto per questo scorcio di stagione, poi andremo a regime per i prossimi due anni con una dotazione di un mezzo brandizzato per Senigallia. Cresce l'attesa per l'evento Il Burlesque Show del Summer Jambore numero 16 in programma venerdì 7 agosto al Teatro La Fenice di Senigallia. Protagonista le indiscusse regine italiane del burlesque, Yves Laplume e Grey Soul che si alterneranno al concerto dei 16 elementi della big band. Andri e Belka and his Melody Makers nel foyer del teatro, DJ Set nella piccola Fenice a mezzanotte e mezza e alle due proiezioni del film e la Zoppin del 1941. È tutto anche per oggi, grazie per averci seguito. Vi rimando all'appuntamento della prossima edizione che arriverà domani. Vi aspetto. Grazie a tutti.